Dalle autorità politiche e istituzionali e dalle forze di polizia giudiziaria non sarebbe ancora arrivata alcuna risposta dopo la pubblica denuncia alla signora Di Caro che lunedì scorso dai nostri microfoni invitava gli amministratori comunali a intervenire con urgenza per eliminare i pericoli derivanti dal fatiscente immobile attiguo alla sua abitazione sita nel pieno centro storico cittadino. Lo scorso mese di maggio parte del fabbricato ubicato in Vicolo Sardo nel quartiere Grotta è stato interessato da un crollo. Secondo quanto evidenziato dalla signora Di Caro in Vicolo Sardo da quando è successo il fatto sono intervenuti nello stesso giorno i vigili del fuoco e i responsabili dell'ufficio tecnico comunale dopodiché è calata l'ombra. E' caduta questa casa e non sono venuti nessuno per ripristinarlo oppure per buttarla a terra. Sono venuti i vigili del fuoco e il comune di Favara e hanno detto che si doveva risolvere più presto questo caso e i proprietari. Vedete voi se è risolto. Sono venuti qua hanno rilevato che era crollata la casa e poi? E basta hanno messo un nastro che non si poteva passare. Dice così non passate anzi il comune un vigile mi ha detto signore ci sta attendo perché se passa qualche bimbo gli dici che non deve passare. In mattinata la cittadina ha nuovamente lamentato alla nostra redazione l'immobilismo degli uffici, amministrazione e consiglio comunale che non hanno attenzionato le sue richieste di messa in sicurezza dell'edificio e la carenza di igiene. Come ricorderete infatti la signora Di Caro parlava della presenza in zona di grossi topi. Ci sono la sera i topi che passeggiano qui, in più la spazzatura perché le persone buttano la spazzatura nella casa vecchia. Quindi in definitiva cosa chiedete voi? Io chiedo che le cose si risolvano e che si sistema più presto perché io la sera non posso dormire perché ho problemi perché mi spavendo perché ora con le piogge può crollare sicuro. Io chiedo o il comune o i proprietari che ci sono che vengono a sistemare a più presto perché così non si può stare. A quattro giorni dalla prima segnalazione televisiva la signora Di Caro invita nuovamente gli organi competenti a intervenire il prima possibile per evitare spiacevoli inconvenienti. Sicilia TV condivide in pieno l'appello della cittadina e si fa portavoce dell'istanza diretta agli organi interessati. L'auspicio è che la giusta preoccupazione della signora possa trovare soluzione nel più breve tempo possibile. Garantire la sicurezza di tutti i cittadini è un dovere delle istituzioni e questo non dobbiamo scordarlo, specie dopo il tragico evento del 23 gennaio 2010. Grazie 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 Grazie